Bagni guasti, assenza di paraspigoli nella palestra e piccoli interventi di manutenzione. Gli studenti dell'Istituto Professionale Marco Pittoni in protesta questa mattina. Una piccola delegazione dei ragazzi ha dapprima manifestato all'esterno della scuola di Via De Gasperi per poi spostarsi in piazza Bernardo D'Arezzo all'esterno di Palazzo San Carlo, sede del comune. Non è tardata però la risposta della provincia di Salerno. Il consigliere provinciale Gerardo Palladino ha confermato che l'ente è a conoscenza delle problematiche ed è già pronto ad intervenire. Mi hanno informato che stamattina c'era un piccolo gruppetto di ragazzi che hanno voluto rappresentare delle problematiche all'interno dell'Istituto. Ci siamo confrontati un attimo sia con gli uffici provinciali e sia con la scuola per capire il problema dove risiedeva. Si tratta veramente di piccoli problemi che attanagliano la quotidianità di tante scuole. Parliamo di piccola manutenzione, qualche bagno che non è perfettamente funzionante. Parliamo di paraspigoli nei pilastri della palestra che sono stati già acquistati dalla provincia e devono essere soltanto installati. Se parliamo di paraspigoli in gomma nei pilastrini che si trovano giù in palestra per una questione di sicurezza che giustamente vanno installati ma sono stati già presi dalla provincia. Soltanto la ditta è incaricata, sta perdendo un poco di tempo perché è impegnata anche su altri lavori. Tenevamo presente che abbiamo una provincia di 158 comuni. Il personale è quello che è e quindi dobbiamo un attimo capire anche la tempistica. Però mi hanno assicurato che nel più breve tempo possibile saranno installati questi tappetini paraspigoli. Manutenzione dei bagni sono stati già inseriti come piano di manutenzione da inserire con la Reghi Multiservizi. La scuola è stata investita di un finanziamento di circa 420 mila euro per quanto riguarda il rifacimento dei blocchi bagni dove necessitano manutenzione e impermeabilizzazione dove necessita. Quindi ulteriori disagi che si possono riscontrare in questo momento dal Pittone mi dicevano anche dal Preside che ci sono i tecnici in questo momento proprio che stanno lavorando, tecnici nei laboratori relativi alla realizzazione di progetti per fondi PNRR. Quindi un po' di problematica logistica più che altra che anziché vero e proprio. Il consigliere provinciale Palladino è intervenuto poi sulla questione dell'accorpamento del Pittone con l'Istituto Rea di Nocere Inferiore come previsto dal nuovo piano di dimensionamento. Una scelta dovuta per rendere la scuola sempre più competitiva. Noi rilanciamo, non chiudiamo. Il Comune di Pagani avrà un Pittone sempre più competitivo in termini di offerta didattica. Non a caso è stato studiato dalla provincia di Salerno, me ne sono occupato in prima persona per quanto concerne il territorio dell'agronocino sarnese, di un piano di dimensionamento che vada nell'ottica del rilancio delle nostre strutture e della nostra offerta didattica. C'è stato l'accorpamento tra il Rea e il Pittone, quindi con questa sinergia, perché entrambi erano in forte affanno rispetto ai numeri della nuova legge di bilancio portata avanti dal Governo centrale e rimodulata e messa in campo anche dalla Regione Campania perché con un'interlocuzione fissa e continua sia con gli uffici regionali e con quelli provinciali siamo giunti alla conclusione che creare un discorso di accorpamento dove lo necessita è diventato indispensabile. Quindi senza focalizzarci su un dirigente o piuttosto che un altro perché non tocca alla politica interessarsi di ciò, alla politica tocca mettere a disposizione le strutture alla collettività e creare le condizioni affinché sui propri territori ci siano sempre più indirizzi all'avanguardia.